marica pellegrinelli è incinta per la terza volta se prima erano solo indiscrezioni ora è ufficiale la modella 35 anni è in dolce attesa del primo figlio con il compagno william gioco dopo raffaella maria e gabrio tullio nati dall'amore con eros ramazzotti a farlo sapere è il settimanale diva e donna con alcuni scatti che mostrano la coppia all'uscita di una visita sono incinta sarò ancora mamma siamo molto felici ha svelato pellegrinelli al settimanale diva e donna che mostra alcune sue foto insieme al compagno william gioco dj olandese a cui è legata dopo la fine della storia con eros ramazzotti i due escono da una visita ginecologica e la modella 35 anni non nasconde più il pancione una bella notizia che per lei arriva dopo un periodo piuttosto complicato in seguito a un'operazione per un tumore alle ovaie nel 2022 al momento la futura mamma ha fatto sapere di non conoscere ancora il sesso del bebè in arrivo non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia qualunque sarà la coppia appare più innamorata e felice che mai di costruire una famiglia insieme già lo scorso dicembre era stata paparazzata dal settimanale chi con una pancione sospetto la frequentazione tra pellegrinelli e gioco sarebbe iniziata nel dicembre 2021 quando sono stati avvistati per la prima volta insieme sempre dal settimanale diva e donna solo quattro mesi più tardi i due uscirono ufficialmente allo scoperto pubblicando la prima foto di coppia sui social con il passare degli anni la loro relazione divenne sempre più importante tanto che ora sono pronti a costruire una famiglia insieme un desiderio che la modella già mamma di due figli nati dall'amore con eros ramazzotti aveva da tempo ma che fu costretta a mettere temporaneamente da parte per alcuni problemi di salute nel 2022 infatti era stata operata per un tumore alle ovaie l'acqua di soli Grazie a tutti.